Ciao a tutti e bentornati in Tessilan News. Quest'oggi parliamo di una perfetta fusione tra cotone e poliestere e quindi per chi ama dare un tocco di luce alle proprie creazioni. Grazie al cotone avrete quindi la morbidezza e il comfort che ci si aspetta da un materiale per l'appunto naturale e grazie al poliestere invece potrete aggiungere quel tocco di raffinatezza, eleganza e luminosità in modo tale da catturare sicuramente l'attenzione. Parliamo di un filato in rocche da 250 grammi, vale a dire il Joplin. Analizziamolo nel dettaglio. E vediamo allora questo Joplin. Allora come vedete è davvero molto luminoso. È composto per il 56% da cotone e 44% poliestere e si presenta così in rocche da 250 grammi per una lunghezza di 325 metri per i quali consigliamo l'utilizzo o dei ferri 7.9 oppure dell'uncinetto 6.8. Mi auguro che riusciate a vedere ingrandendo la foto che poi vedrete direttamente sul sito la lavorazione di questo filato perché è una sorta di catenella in cui si incastrano perfettamente il cotone e il poliestere. Quindi è davvero un filato molto strutturato che con questo spessore farà in modo che le vostre creazioni possano realizzarsi in poco tempo e comunque sempre con un grande effetto. Veniamo adesso alle condizioni per il lavaggio e quindi per la manutenzione. Consigliamo di lavare le vostre creazioni ad una temperatura che non superi i 30 gradi, di non utilizzare l'asciugatrice ma di tamponare poi la creazione e riporla in una posizione piana. In questo modo vedrete che non c'è neanche bisogno di stirarla. È possibile utilizzare tutti i solventi, eccezione fatta il tetracloretilene e non è possibile ovviamente candeggiarlo. Il Joplin presenta 12 bellissime varianti di colore perfette anche da mixare tra di loro. Vediamole quindi tutte e magari proviamo già ad immaginare qualcosa. Ecco le prime tre varianti che sono il jeans, il pistacchio e il blu. Andiamo adesso su tre grandi classici, vale a dire il perla, il bianco e il nero. Vediamo adesso questo meraviglioso trio, anche messi insieme davvero il risultato sarebbe una creazione estiva che richiama i colori del mare, della terra, molto bella. Nel dettaglio i colori che stiamo vedendo sono il beige, il senape e il ruggine. E vogliamo parlare di quest'altro meraviglioso mix, vale a dire il cipria, il corallo e questo meraviglioso, oltre che intonato alle mie unghie, lavanda. Le varianti di colore sono tante, avete visto magari c'è anche qualche mix davvero molto interessante. Questo perché con il Joplin davvero potrete divertirvi, sia grazie alla gamma di colori che presenta, sia grazie alla composizione di cui è fatto. Cotone e poliestere, avete visto questa perfetta lavorazione che mixa insieme questi due componenti, permettendovi quindi di realizzare delle creazioni davvero molto versatili, anche la manutenzione davvero non richiede grandi attenzioni e le creazioni che potrete realizzare sono tante. Pensate magari ad una classica maglia rete, magari traforata proprio perché la lavorazione così particolare del filato vi consente di realizzare delle creazioni molto semplici ma comunque di grande effetto. Oppure potreste anche realizzare delle stole eleganti capispalla da poter indossare anche in serate occasioni un po' più formali. Magari abbinate anche ad una clutch o una pochette che possa avere un colore più o meno simile o comunque una stessa brillantezza, ad esempio realizzata proprio con il tie sublime looks. Tutto ciò che dovete fare è mettervi al lavoro. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi su tutti i nostri social, vale a dire Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok e ovviamente YouTube, di leggere gli articoli presenti sul blog in modo tale da avere sempre nuove ispirazioni e nuove informazioni sul mondo del crochet della maia e noi ci vediamo al prossimo Tessilan News. Ciao!